Passiamo al numero 47, la fiera paesana o Kermess, che viene evocata in tre brevi quadri ben differenziati. Nel primo, il fragore della Kermess è rappresentato attraverso l'uso di un ostinato alla mano sinistra, del pedale di risonanza rigorosamente da cambiare ogni battuta e dall'intervento di brevi incisi motivici appena differenziati rispetto allo sfondo globale. La parte centrale, che non prevede qui l'uso del pedale, è invece incentrata su frammenti ritmico-melodici per gradi congiunti, imperniati sul suono fa diesis, suono che nessun utilizzo aveva avuto nella sezione iniziale. Il terzo quadro riprende, variandolo, il primo ora adattato ad una trama imitativa, la cui intelligibilità richiede il cambio di pedale ogni mezza battuta. Si nota l'indicazione grafica con la quale Bartok richiede un suono particolarmente squillante nella seconda e terza parte del brano. A questo proposito, l'autore prevede un esercizio preparatorio finalizzato all'approccio alla tecnica di pedalizzazione nell'appendice posta a conclusione di questo secondo volume. Con il numero 48, detto nel modo misolidio, Bartok adotta un nuovo impianto metrico, il 5 quarti, evidenziato dalla ostinata formula di accompagnamento sulla quale si dispiega, libera, quasi estemporanea, la melodia modale che è opportuno timbrare adeguatamente. Nella parte centrale la conduzione melodica è affidata alla mano sinistra, anche se la parte superiore abbandona ben presto il ruolo di semplice accompagnamento a favore di un atteggiamento maggiormente dialogante. Nella ripresa, di grande interesse, è il rallentato misurato che Bartok ottiene con una sapiente e artisticamente rilevante distribuzione dei valori ritmici.